Fare il punto della situazione sullo stato del mare napoletano e campano. Era anzitutto questo l'obiettivo del convegno Il Mare di Napoli, morte o rinascita, organizzato ieri 5 marzo dall'Associazione Mare Vivo, alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del Ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Un incontro come questo di oggi con Mare Vivo è importante perché mette insieme istituzioni e associazioni che vogliono ripartire anche dal mare. Il mare è una delle occasioni per far ripartire a livello internazionale l'immagine della nostra città. Il Ministro ha chiarito che entro fine marzo avrà il quadro della situazione su quanto è stato fatto negli ultimi 17 anni per affrontare l'emergenza e inquinamento nel Golfo di Napoli, per il quale ci sono 142 procedure di contenziosi da parte dell'Unione Europea. Sebbene su temi come il termo valorizzatore le distanze tra amministrazione comunale e ministero siano rimaste intatte, sul piano della risorsa mare un risultato dell'incontro è stato quello di condividere l'esigenza di un tavolo unico per le bonifiche, la depurazione e la riqualificazione della zona orientale di Bagnoli, due siti di interesse nazionale individuati come priorità da entrambi. Si va dunque verso l'istituzione di un tavolo tecnico e si spera in una ulteriore accelerazione perché l'inquinamento persistente, oltretutto, danneggia l'intero settore turistico. Mare significa commercio, economia, turismo, passeggeri, un bene comune, significa valorizzare questa risorsa straordinaria di pace. Poi America's Cup già è significato ad esempio puntare all'area apertura del Molo San Vincenzo, sbloccare i fondi per Bagnoli, questo si aggiunge al lavoro che è stato fatto sul Napoli estico Porto Fiorito e quindi i depuratori, come sapete i depuratori è tema che attiene soprattutto alla regione per quanto riguarda i finanziamenti. Nella zona della Rotonda Diaz sarà ricostruita la spiaggia come era agli inizi del Novecento, quindi un primo passo importante per un allungamento della spiaggia e una valorizzazione del mare.